E' arrivato il momento di sbappare, sbappo me! In partita d'esordio si può essere soddisfatti di questo Cervinara? Sì, abbiamo sofferto tantissimo con un uomo in più, però loro un'ottima squadra, hanno giocato bene, ci hanno messo in difficoltà. Noi alla prima dovevamo chiuderla in più di un'occasione, poi è normale che quando sbagli troppo esageri nel voler giocherellare. Puoi rischiare anche di prendere gollo, questo non è successo, meno male. Abbiamo portato tre punti a casa importanti, era la prima e adesso mercoledì facciamo questa partita di Coppa in casa. La difesa si è mossa benissimo, un applauso anche a Taddeo. No, non avevamo dubbi, Taddeo è un ragazzo che da un po' di tempo gli ho sempre chiesto di venire a Cervinara. È un ragazzo che ha una trafila calcistica sempre nelle scuole calcio del Benevendo, poi anche nel settore giovanile importante del Benevendo. Quindi è un ragazzo importante, poi ha fatto l'anno scorso un campionato di eccellenza, sempre titolare nel Laziale, due anni fa in Serie D. Voglio dire, non lo scopriamo noi sicuramente. Ha quest'anno l'occasione di dimostrare tutto il suo valore qui a Cervinara, nel suo paese. Il ragazzo è motivato e poi c'è Ciampi che veramente mi ha soddisfatto. Non pensavo che fosse già così, stava così bene fisicamente perché lui ha avuto un problema settimana scorsa, invece oggi ha fatto una grande gara. Però i complimenti vanno a tutti, oggi è stata una partita di grosso sacrificio.